Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati qui di nuovo su Spore Galactic Adventures in Ita. Ehm... come al solito non mi ricordo più un fico secco di nulla e quindi dovremmo andare un attimo a ricapire tutto quello... Forse volevamo... ecco... oddio! No dobbiamo salvarlo dal disastro ecologico... chi... dov'è? Fiii laggiù devo andare! Non so neanche chi sia quel tizio laggiù in fondo, vabbè noi ci andiamo. Mi sfasa sempre tutta la visuale, io non ci capisco un Kaiser se mi sposta tutto sotto... Ok, frizze immenso... ah! Santa Claus, sì ciao, arrivo subito. Sono da te in un attimo. Via! Così vediamo anche se ci offrono qualche missioncina qua. Allora, qua c'è un ecosistema che sta implodendo, quindi... lanciamoci con il... Mega laser, sì? Suppongo che sì. Dai! Oh, non so come mai oggi è così lento. E ora è andato. Mi sa che l'abbiamo preso. Yeah! Ciao, bellissimo! Hai qualche missione da fare? Ah, ok, non ho voglia di un Kaiser di niente. Quanto ci mancava qua per... forse perché lo conta come missione quella, non lo so. Cioè non ai fini di quel punteggio là, ma ai fini del punteggio... punteggiano, cioè ai fini di... se mi offrono qualche altro lavoro, ecco. Allora, andiamo a vedere dall'impero al Chief Chef. Ah, non mi vuole, ma avevo cucinato con te il tacchino due volte. Sì? Non ho capito cosa mi hai chiesto, ma... Allora, dovete rafformare, fino al punteggio T3, un pianeta che qua... Migeno... Nel sistema Yaranos... Yaranos... Y-Y-Y-N-O-Y-Y-A... Y-Y-An-O-Ros... Andiamo, allora. Tra l'altro che appunto siamo con la medaglia Uncola qua? Dov'è che è? Qua? Medaglia Missionario... Ci mancano nove missioni e ci siamo. Allora, queste saran... Dopo queste ne mancheranno solo più otto Allora qua è proprio uno schifo No? Proprio schifo È zero ma proprio zero violento No? Uno di quegli zero Che dice ah vabbè dai gg C'è la fin fine Invece no Vabbè è uno schifo mostruoso Allora Tra l'altro non ho ancora sbloccato gli altri Che servono qua per Poi ho una spira nuvole Abbassa la temperatura e il livello dell'atmosfera No qua dovrei aumentare il livello dell'atmosfera Alza la temperatura e abbassa l'atmosfera No io ho bisogno di più atmosfera E quindi dovrei andare a Creare più atmosfera Vai fai nuvole 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 Oh sta prendendo un po' forma Si qua ci stiamo bruciando praticamente tutto Ok bisogna di scaldarlo un po' però Ok abbiamo finito per portarlo in T1 Praticamente tutta l'energia Allora mettiamo un po' di Pianta piccola Pianta media E pianta grande E poi riprendo un po' di roba qua Ok poi abbiamo bisogno di animali Allora Erbivoro E lo riprendiamo Poi mettiamo uno smerve E lo riprendiamo E mettiamo E lo riprendiamo Ok Dobbiamo andare a recuperare un po' di energia però Allora Fino a un punteggio di T3 Ora è T1 Per adesso Allora Torniamo verso casa Dov'è casa? Ah è di là a casa Guardate che casino qua In sta zona Ok andiamo a casa Recuperiamo l'energia Ciao belli ricadichatemi a gratis Ok È stato un piacere Tra l'altro quegli altri per la terraformazione chissà quando si sbloccano Andiamo a vedere Allora Terraformatore 5 O impero 5 Allora Terraformatore 5 O impero 5 Questo siamo al Ah Se mi espandessi in un altro sistema solare avremmo Quella due roba là Potrebbe essere anche una cosa che possiamo andare a fare Oppure terraformatore Qual è che è il terraformatore? Questo forse Ce ne mancano 8 qua per arrivare al 5 Adesso vediamo un attimo No molto più probabilmente sarà Che lo faremo con impero ecco Allora 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 Se prendiamo un pianeta i grox Abbiamo comunque Aumentato di uno E ci viene il Impero 5 Ecco Allora Andiamo Qua abbiamo detto che abbiamo bisogno di Un po' di caldo adesso Non vuole che dovremmo essere a posto Dobbiamo scaldare ancora un po' Ecco Scaldare come se non ci fassero domani Ok Mentre lui va Andiamo a depositare Una pianta piccola E la andiamo a riprendere Poi Quella è di nuovo piccola Questo è un erbivoro Avrei bisogno di una Vabbè grande Andiamo con la grande Alla faccia della grande E questa dovrebbe essere una media Ma c'è neanche una media? E forse si Ok Adesso ci mettiamo gli animali Allora Un erbivoro E lo ripigliamo Ah no è là Una media Questa è un'altra media Però se No è piccola Boh Sì ci manca una media Quello era un altro erbivoro Adesso abbiamo bisogno di un Univoro Il Periculus Zoologo 5 Ingranditore Cos'è l'ingranditore? Questo Ah ingrandisce una Creatura Ma non me ne frega un Kaiser di quello Allora Adesso dovrei Terraformare ancora Con il raggio caldo Ma il fatto è che non c'ho abbastanza pianta E mi manca una pianta media Non so perché mi manca una pianta media Allora Vai di pianta piccola E questa è andata Poi abbiamo la pianta grande E boh ci manca la pianta media Eh sì Non possiamo neanche mettere gli animali Allora dobbiamo andare a prendere la pianta media Ma strano Abbiamo terraformato T3 fino ad adesso Poi boh magari me la sono stupidamente perso io Andiamo a vedere qua da Santa Claus Se hanno qualche pianta media da Dare a prelevare Tanto un T3 Una pianta media che non abbiamo La troveremo di sicuro Allora Tipo questa Ebbene una pianta media No? O è una pianta piccola? Media Ottimo Quindi vuoi prendere anche questo Vuoi prendere anche questo Vuoi prendere anche questo No mi ha detto anche due piante piccole Non mi servono queste piante piccole Volevo le medie Ne ho prese quattro mi pare Quindi dovrebbero bastarci Allora Grazie Santa Claus Andiamo solo a terraformare Questo pianetuncolo qua Ok Andiamo a depositare la pianta media Che abbiamo preso Che è questa Ok così stabilizziamo E poi dobbiamo Pizzare gli animali Che mancano Quindi abbiamo Erbivoro Erbivoro Onivoro Allora Erbivoro Vai con Rocco E lui c'è Erbivoro Covello tigre Ok E onivoro E onivoro Violet fire Ottimo Adesso devo tornare La subodb bill Scusate Già che c'era Un artefatto Qua possiamo anche Andare a recuperarlo Magari No Cos'è? Blocco della fortuna E tanto le collezioni Non le finisco mai Oh Torniamo là Intanto si sono espansi Guardate che si stanno espandendo Quando sono nella zona In cui ci sono anche io Si espandono Ciao bello Com'è? C'è qualcosa che ci offre? Interessante La blu 17 mila Ci stanno Un po' Vabbè Però ti vendo Questo blocco della fortuna Che ci sta Ciao bellissimo Alla prossima Andiamo verso casa Oddio Zoomiamo un po' Che Ok Vai qua a casa Recuperiamo un po' Di energia Ciao Ma vediamo se Per questo vogliono Comprare qualche spezia No niente Ma immaginavo E Andiamo a fare qualche missione Per qualche duno Allora Tipo per Qua Qua c'erano i griffin Da queste parti Guardate quanto si sono espansi Ma com'è che Si Peter griffin C'è di qua Ciao Peter griffin Saluto È un piacere vederti Allora Missioni Tutte le specie Da federazione La creatura Troppe Determine Ok Devo andare Ci vediamo Dov'è questo Sistema Pianeta Dove devo andare Aspettate un attimo Pianeta Pianeta Dandy Nel sistema Marictia Allora Marictia Questo qua Ok Andiamo qua No per evitare Di perdere Secton Almeno Dandy Ok Qua Dobbiamo cercare L'esemplare Di troppe Edit Minisi Dov'è No non è questo Dov'è questo Questo per caso Ok Sì Ok Non so come mai Era un po' bugato Perché mi indicava Un posto diverso Ma va bene Allora Andiamo A riportare Questo Troppo Dei troppici Vi ce ne mancavano Otto Dopo queste Ci mancano Solo sette Missioni Ciao Bellissimo Allora Ciao Io sgancerei Scusate I troppi Demigri Che me ne frega Un kaiser Lo abbandono Nello spazio Più Estremo Andiamo a vedere Qua cosa vogliono Altri Peter Griffin Ciao Missioni Una rete di sensori In grado di individuare Una nuova civiltà Ma non mi interessa Esplorare le civiltà In realtà Perché poi dopo Ci sono sempre guai Devi rapire Della gente No E adesso Un altro Peter Griffin Ha una missione Più interessante Shalvino Come sta Buongiorno Voglio sentirmi Il vento Allora Insedere se Nel sistema Bitto È privo Del mix Di specie adatto Ok Arrivederci Ah quindi Devo terraformare In pratica Quello affare Raccogli campioni Di piante Animali E portali Nel sistema Benna 5 Sì ok Devo fare Quello di prima In pratica Terraformiamo Così prendiamo Anche Qualche cosa In più Su Terraformazione Ha detto Su Bitto Dov'è Bitto Cosa è successo A Bitto Qua Ok Non so perché Ha zoomato In quel modo Strano Allora Vediamo un attimo Qua innanzitutto Ho bisogno di Mettere un Carnivoro Onivoro Mi spiace Ma non è Cogran Che Allora Un onivoro Un periclus Ah gli bastava Giusto questo Ah lo volevano Giusto T1 Vabbè Ok Meglio così UFO stile Stanno attaccando Berro Ma chi è Berro Adesso andiamo a vedere Mi ricordo anche Di avere un pianeta Che si chiama Berro In effetti Non è mia Di qualche dono in là Forse del mio Alleato Dell'impero me Ciao Yes Con il piacere Addio Aspetta Andiamoci un attimo In là Ah no È mio È un mio Sistema Quello laggiù Ma è su Rigel Eh sì È su Rigel Berro Ehi 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 Sono Uffo Stile Sono i Grox Ma forse È un'aria Che è troppo tardi Ah no Eccoli Di là Di là Di là Di là Di là Sono dei Tizzi Che mi attaccano A parte che Sono pieni di torrette Questa 48 Questa 48 È un po' Meno Però Questa 17 Invece ci sta Alla grande Ti vendo tutto Grazie È stato un piacere Un milioncino in più Ci sta Sempre bene Adesso tanto posso andare a recuperarla Alla gialla Allora Andiamo a recuperare i soldi Intanto che hanno perso Ops Qui sono cadute Forse c'erano altri in giro Di soldi No Forse no No Non direi Non mi segnala più niente Allora Andrei a ricaricarmi Allora un attimo Di spezie gialla Perché cosa abbiamo Qua nella stiva Allora Nella stiva abbiamo Viola non al massimo Rosa al massimo Blu Rossa Verde Non abbiamo anche niente Blu Allora Blu Rossa Verde Viola Andiamo a prendere un po' Di tutto va Allora La gialla doveva essere di qua Mi pare Se non sbaglio No questo è verde Tibio Forse era qua Che avevamo Gialla in abbondanza Sì infatti Gialla 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 Qua c'è Altra gialla Ma l'altra gialla potenza Era qua Quindi 15 Ok ottimo Ora avrei bisogno Di un po' di rossa Che era qua in fondo Ok Poi La verde Era qua A Bataclan Sì Ok E poi c'era La verde Anche giù in fondo Forse Qua A Mirillo Ok Poi avevamo Della viola Giù in basso Forse qua Sì A Melilla E poi una La in su Melilla Give me your Viola Prendiamo su Un po' Prendi Rigel Ecco qua A Miripren Prendiamo la Viola Qua A Miripren E cosa ci manca Ancora Allora Un po' Di blu E Da finire La verde Allora La verde No No Qua Qua della verde Potrebbe esserci Forse solo 15 Ma Comunque meglio che Ah no niente L'abbiamo preso un attimo fa Forse qua O forse no Non produce proprio un Kaiser Qua produce della blu La blu Siamo piena A meno Ma forse ce ne mancava un poco Di blu Vediamo se qua Producono un po' di blu In modo di schereto Qua è dove abbiamo comprato E infatti non producono Eccessivamente Ma Ci sta Adesso andiamo qua sotto Dove producono bene Darmageddon Darmageddon No Mozuskings Non mi serve Perché sono pieno di Rosa E verde Non so se posso Trovarla altrove Se avevo degli altri sistemi Che producevano bene La verde Forse ne ho comprato Qualcuno Qua che produce verde Non ricordo più Sinceramente Qua produce Gialla Verde Ah tra l'altro Questo forse era Un sistema madre Quindi magari Produce un discreto Numero di verdi Infatti Ottimo Ottimo Adesso siamo pieni di tutto Allora Sì 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 E tra l'altro Io direi anche Che per questo episodio Può essere tutto Noi ci vediamo Nel Prostimo Il prossimo video In cui cercheremo Nuovamente Di completare Missionario Ci mancano Sei Missioni E Ehm Oppure potremmo 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 Beh Io vi saluto Basta Perdere tempo Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso Non l'este già fatto Ci troviamo Prossimamente Se volete la mia pagina Facebook è in descrizione Ciao a tutti Ciao a tutti